8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Buongiorno amici! Difissimo! Il giorno è oggi, è un giorno speciale, oggi c'è il sole, c'è la motivazione di migliorare, non c'è scusa che piove o non piove, oggi è una giornata bellissima, non abbiamo che la neve qua nel prato. Il giorno è oggi, oggi facciamo 8 esercizi per migliorare la forza explosiva, se tu gioca basquet, balavolo, calcetto, gioca tenis, che meglio che fare questi esercizi, così questi esercizi te van a aiutare a migliorare tu performance, ma se tu non fai con i sport, va bene, almeno sei più agile e sei più e più forte, per il giorno è oggi, dobbiamo tenere in considerazione un buon riscaldamento, che non manca il riscaldamento quando vanno a lavorare la forza explosiva, riscaldamento, anche fare stretti, farlo in una superficie molto, diciamo molto comoda, che sia facile per prendere i esercizizi, per esempio, oggi sono qua nel prato, non mi faccio male le articolazioni, se lo faccio nel cemento, se può diventare più peligroso per le articolazioni, tu lo puoi fare al prato, o con il tapetto, o in una palestra, dove ci sono le possibilità di non fare male, questi sono altri esercizi, io lo puoi ripetere due volte, vanno a spingere al massimo, vanno fare 30 segundi di esforzo, di lavoro, con 45 segundi di recupero, non sei se sono scusa, Pablo, che tu non mi lascia a riposare, no, te voy a lasciare 45 segundi, anche poi fare anche un minuto, come mi chiamo io? Pablo, 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 vanno a iniziare, vanno a iniziare, vanno a iniziare, vanno a iniziare, vanno a iniziare movendo un pochino questa banda elastica, la chevola, la chevola, la parte, perché oggi non la utilizzeremo mai, solamente vanno fare questi exercici per la parte inferiore, lo che vanno a lavorare con le nostre gambe, anche dopo questi altri exercici per mettere un ejercicio di coordinazione, ok, ok, muovete nel posto, io ho fatto un previo riscaldamento, un previo riscaldamento, adesso vanno a iniziare, vanno a iniziare il nostro ejercicio per migliorare la forza explosiva, ok, approssimamente questo dura 20 minuti, 20 minuti, 20 minuti, sarà più riposo che esercizi, ok, perfetto, 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 cerco il mio timer, il timer che non lo vedo, perfetto, ho trovato, 3, 2, 1, via! 4, 3, 2, 1, via! Nostro primo, vanno a fare jumping già, volto in movimento, largo, 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 jumping già, in questa superficie, sto amortizzando perché sto cadendo sul prato, ta, avanti, largo, avanti, largo, avanti, largo, avanti, largo, avanti, ta, avanti, ta, avanti, ta, avanti, ta, avanti, ta, avanti, ta, avanti, ok, allà fuo 45, 45 del guto di riposo, ok, intanto tu riposa, nostro prossimo ejercicio, che ho fare? Vanno a fare, squazz, 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 salgo, in punta, basta, va a fare continuo, vanno a fare questo, continuo, ta, continuo, salgo, 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 salgo in punta, vanno a fare lo bene, fino in fondo, fino in fondo, preparate, lo faccio così, del lato così, tu lo guarda medio, respira profundo, respira profundo, questo esercizio, lo consiglio di fare almeno di due volte settimana, due volte settimana, ok, ok, si va, ta, 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 che il linochio non superi la punta del piedi, si, continua, si, continua, si, continua, si, continua, nostro prossimo ejercicio, è molto simile, molto simile, solo, fare un pochino, vamos a fare questo vamos a fare squash giro con giro squash giro facciamo un salto molto ligero inicio di fronte questi ejercicios te ayudano a guadagnare forse in la gamba così vai a spinger vai a saltar di più ok va ok questo è il prossimo un po' di coordinazione cosa faccio mano contraria tocca il piede contrario toco toco il cambio di gamba preparate muovete sì 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 ok va toco 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 l'altro al prossimo vamos a fare squash jump squash jump lo massimo e faccio skipping, lo massimo skipping, 1, 2, 3, nuovamente preparate, preparate, vamos a spingere, vamos a spingere, squash ya lo massimo, squash ya si, 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 sentadilla, importante, no superi la punta del pie, salto, 1, 2, 3, nuovamente, 1, 2, 3, escendo, 1, 2, 3, escendo, 1, 2, 3, escendo, 1, 2, 3, escendo, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 8, 8, 10, 9, 10, 10, 11, 12, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, escendo, ta. Importante questo esercizio La fase di aterrallo Amortiguando sempre la caduta Guardate qua Toco 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 Ginochio No supera la punta del piedi Toco Toco Pie contrario Mano contraria Nuestro próximo Tres skippings Tres giri Uno Due Tres Uno Due Tres Nuevamente skippings Tres kiri Tres skippings Tres skippings Tres kpis 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 prossimo, vamo a fare piegamenti, piegamenti, io utilizzo le gambe guardate con me forza forza piegamenti, uso le gambe come se fosse fare burpees, però faccio vedere, quando inicie ok, a terra, si va, ta, uno, dove, uno, dove, dietro, uno, ta, ta, uno dove, uno, dove, va, uno, dove, uno, dove, va dove, uno, dove madre de dios, madre de dios, vamos a iniciar de capo venga po', jumping ya jumping ya jumping ya jumping ya jumping ya dai, forza dai, forza a i ah guarda continua, sentadilla, punta, squat di punta, abro, stessa misura la spalla respira profundo, concéntrate guarda la punta, guarda la punta guarda la punta, puso guarda la punta corto, perché giriamo, giro, giro, giro preparate, preparate, un squat basso, un squat jumper con giro sulla gamba, palma sotto, toco pie contrario fisi mass, never stop, grande resultati, lasciame tu commento se ancora non è inscrito, iscrivete a questo canale va, toco, va, toco, va, toco, va, toco, 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 toco toco punta toco toco tre squads tre ski tre squads tre 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 squads tre skim tre 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 uno due tre nuevamente uno due tre uno due tre uno due tre uno due chile afondi afondi chile 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 mano contraria toco punta chile 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 No, 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 no. Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Due, tre Uno, due, tre Uno, due Ultimo Piegamenti Due piegamenti Due con le gambe Due con le gambe Due con le gambe Due piegamenti, due, due Uno, due Uno, due 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 Uno, due Uno, due Ce l'abbiamo fatta Ce l'abbiamo fatta Ce l'abbiamo fatta Grande, grande, grande No te dimenticare De fare stretche Si tu ancora No te hai inscrito con questo canale Iscrivete adesso Aiutami a crescere Dami un like Si no te piace Anche De core Pablo Due 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 Uno, due 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 Grazie a tutti.